E' un'Italia che non c'è, è una visione dove non c'è lui. I soldi dei rimborsi elettorali, è lì che comincia la magaglia. Noi non li abbiamo mai presi e non li prenderemo mai. E' fantastico. Stiamo andando a casa l'intermediario. Questo è un momento straordinario, veramente sconfugente. E sconfugente cosa abbiamo partito. Io sono partito a luglio con due studi. Questi fogli di fico che si prestano a fare in trato sono le idee. Ci sono dei giovani che protestano. A febbraio, per la prima volta, non oltre il concetto di sinistra e destra. Noi non siamo ideologia, ma in pratica. Perché le idee non sono né di destra né di sinistra. Sono idee intelligenti o stronzi. Se uno contro l'altro, lo Stato latita. Da Bruno Vesca. Che siamo in guerra di sostegno alla Francia per bombardare il Tuareg del Mali. Noi facciamo il discorso. E questo non c'è lo Stato. Non c'è uno che ci vieta queste sporche cose di sostenere l'interno. La logistica. Gli diamo un sistema di potenza. È un punto preciso, ma di certo. E' un peccato che si è tirato molto, non c'è un lavoro di votare questo. E io secondo voi abbiamo votato perché è un programma di bello paura. Mentre i cittadini normali dentro il Parlamento. Io voglio vedere se hanno votato la mia circostruzione d'Aleguia. Ho guardato i 25 candidati, meraviglioso, ho visto il curriculum. Ma nessuno riusciamo a fare delle cose insieme con questi ragazzi al freddo. Siamo gli unici a raccogliere le firme. Le abbiamo raccolte con una difficoltà incredibile. Hanno fatto decreti, leggi ogni settimana per tagliarci fuori. Non ce l'hanno fatta. Siamo stati i più precisi di tutti. Voglio ringraziare la polizia, la DIGOS, tutta questa gente che non lo ammette. Ma sono tutti con noi, porca puttana. Voglio dire che siamo cittadini. Questo è un movimento che sta stretolando i partiti. Destra e sinistra vengono fuori. Adesso sono costretti dalla gente del web a togliere i loro ricercati dalle liste. Il PD ne ha tolto 14, non poteva farne a meno. Mi sarebbe arrivato addosso uno tsunami di milioni di persone del web. Cosentino non si trova. È scappato con le liste. È scappato con le liste. Sarà con quel fotografo, come si chiama? Corona. Sarà con Corona in centro. Corona nel centro. Quello lì lo conosco. Quello lì lo fotografano. Qui si stanno sciogliendo. Il centro. Rutella di col centro non esiste più. Ha detto, devo prendermi un anno sabbatico e vado a riposarmi. Ma riposarti? Ma che cazzo ti devi riposare? Che è una vita che ti riposa. E non è gente di fuori. Non è gente conosciuta. È gente campana di Napoli. E di qua. Li potete andare a conoscere. Li potete amare, criticare. Li potete mandare a quel paese. Ma li conoscete un mese prima.